nooo ok sai che cos'ha al inizio? che cos'è la faggiana fare faggiana e cazzo beh ma tu hai... ma non ci sono... ho un'atteripotica oh metti polscia bro metti polscia e ciao a tutti ragazzi andiamo in partita raga perché tu hai la lingua inglesa? mi piacere di annarmi la lingua inglesa Thanos andiamo contro Thanos magari poi c'è lui e lui è fortissimo attento Thanos attento Thanos ma siamo tutti installati è normale non me lo ricordavo che si faceva così non è vero non te lo ricordavi? cazzo uccidi nooo nooo si però dai gli ascelli da marda questa ascella da marda è morta ma raga resistete 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 ragazzi resistete resistete non ce l'ho fatto resistete 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 è buono oh però io trovo quella Jessie se viene qua è morta ok ma ce l'attacco qua puoi vedere un power buff un culo io non lo perdo manda l'orsetta per rompere i coglioni madonna che bucio da culo anche no? cazzo però eh ci avete rotto i cavalli 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 buona 16 power 16 gemme rischiata molto rischiata e 6 per 3 volte per 3 stracazzo di volte io direi di fare questo tipo distruggiamo tutti perché non ti apre la costa qua la domenica questa qui ma la porti 5 eeeh sei schifo baffanculo ma dai dai tipo un mozzeroglio leggi ma trovi spike lo spike l'ha vinto tipo tutta la vita vabbè tu non te le apri? no aspetta dovrò terminare una cosa abbiamo un sandy una sandy è vero è vero questa cosa mi trega no questo qua è il doppio colpo cazzo picchia vai non possiamo perdere qui 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 shi dai che stacco pezzo di me eeeh ma tu non si chiama? sii tuuutti mo tuuutti edu spacca spacca il culo spacca il culo vai edu corri no non perché non mi ha scappato sii però che cazzo guarda edu che cazzo vai edu sto 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 buona buona stumata cazzo voce biggest tutto 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 no no chiuso no 2 non ci sono io figli di p***a nienza cazzo scappa sono nati sono nati si ciao tutti ma tutti 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 orsi tu l'ho bella una volta stronzo dio però dio non si può non riesco a fare un hit ma guardali guardali sti bastardi dimmi quando che potrei mettere che è buono per me la faccina dimmi tanto gli ho messo bombardino potresti provare con bo chissà con bo con bo vabbè metti te però tu non lo sai usare bene con boccio non lo sai usare non lo sai usare poi con la faccia noi non possiamo giocare non lo sai usare non lo sai usare abbiamo pure un vinto un tournè in football dico dio guarda guarda questi non sono molto bravi bro questi non sono bravissimi che culo non lo sai usare non lo sai usare non lo sai usare non lo sai usare è sempre davanti sai usare non lo sai usare si non parliamo è toporse no no Universal Mio Caci caprio 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 ben podendo si cazzo 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 fai 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 un inchione di merda un inchione di merda siiii yes 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 bro yes e per forza non sapevo giocare con un pocio sono bravo un pocio io sto morendo ho un attacco cardiaco l'importante è mantenere la calma che è un attacco cardiaco cazzo io posso fare il torneo tre volte questo è il bello Sto qua non so usare il gadget di Frank un inchio Ho 6 power, cioè ho 6 gemme seriamente Grazie che non me l'ha fatta diventare Sprecatissima la Ultimbull Molte grazie Tranne per la vita, Frank è inutile Non è vero, è molto utilissimo Buonissimo, non muoio 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 E' due 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 di niente E' due due di niente E' io scasso la minchia, vuoi andati in difesa Eh, poi, lui non fa No, dai, dai, poi Cazzo, cazzo, cazzo Dai, Frank, dai, dai Minchia, quante volte, quante possibilità Scassagli la minchia, però, scassagli la minchia Cazzo fa quel Frank di merda No, bravo, bravo, bravo E così ci leviamo ora a fare gemme di mezzo Yes Almeno questo Ok, chiudono la coppia Non è un castello Questa piccola Mi cercati Oh, tu sono cercato Sì, sì, buonissimo per Bo, questo Quale? Per Bo Sì, però, con la visione è buonissima, questo Ovviamente, insieme a me, no? Così, tipo, stiamo insieme Tara Gadget No Dio, devo scegliere la seconda nostra power Così ci curiamo Però, sicuramente la perdiamo Io, che vengiamo, se torniamo qua Magari vengiamo quelli di Arnan Questi qua Beh, però, no E lo scegliamo di prendere l'astellino Oh, mio Dio Addio, ragazzi È strautile Anche Bo è strautile, bro Bravissimo, bravissimo Buono, 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 buono Un'opera Un'opera è incredibile Un'opera è incredibile Un'opera è incredibile Un'opera è un'altra utile a casa Quanto c'è la ricca Sì Oh, ragazzi Oh, ragazzi, vedi che qua c'è qualcuno Dietro Cazzo, ragazzi Cazzo, 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 cazzo Il mio tarcino Raga, è meglio che non fettiamo Se rompiamo quello Ed è fatta Se rompiamo quello Diciamo Grazie, mi ha salvato il culo Ma aveva salvato il culo Ma aveva salvato il culo Ma aveva salvato il culo Sì, sì, sì E dove scappa E dove scappa Tranquillato, io non muoio qua Ok, no, no Guarda, è buonissimo, Bobro Oh, vieni qua, Anto, vieni qua Ho visto Io mi sto un po' qua Io ho sbagliato comunque Io sto qua a vedere se ci sono amici Non puoi fare il gadget No, io non ti fa Vai, l'ultima Fai così Non fai così Non è bene Non fai Pulissimo, pulissimo Ok, ci diamo, ci diamo Vai Vai, vai, vai 3813 Sì Madonna Madonna, madonna Madonnina, madonnina Madonnina Dai, easy Ci siamo unici Incazzo Club Club Ho tolto Visto che non ero nel team L'ho tolta, no Senti, che vuoi? Forse voleva entrare nel team di Brewstarts Anche lei che ne sa Che ne? Slav bro Fai gadget Senti, ci vogliono stalkerare Stalkerano Stalkerano Faccio vedere, faccio vedere, faccio vedere Almeno faccio vedere, faccio vedere, faccio vedere, faccio vedere Ci stanno tracciando Buono, buono, buono Easy Ma dai, però Sto bastardo, sto bastardo, sto bastardo, sto bastardo, sto bastardo Sti qua ci stanno tracciando, però Sti qua ci stanno tracciando, faccio vedere, 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 faccio vedere e questo capuccia sempre che ci vuoi fare ciao tutto contro di noi a meno che adesso lì non ha la ultima difficile si 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 muori muori ma che cazzo vabbè mi sembra me ok cazzo 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 ah bello loro hanno lo stesso team se non fosse per ierix che loro hanno jesse cazzo cazzo non devo morire non devo morire non devo Non devo morire, non devo morire Minchia Minchia che bordello, minchia che bordello Oh, è stato stato furbo qua Sale e perci Scusa Vabbè tipo c'era quel boccio e stava scappando Porca Dio, porca madonna Tutti gli enti da Nicoletta Non è come la merceda Non è come la merceda Questa è una cosa l'ultimo sign Un di sette e ventuno Ce la possiamo fare Non ce la possiamo fare Qu'è cazzo fa? Guardi Uno 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 questa combattuta vedo guarda cosa c'è dopo no no ma rifà già la cosa mi ha raggiunto non avviciniamo questo lo faccio una paraccia non ci hanno messo le cose più bruttano poi inizio non c'è la cosa più bella all'ultimo allora che hanno? allora non lo so non lo so non lo so che è stato vedo e c'è questa ok che troviamo ulti no cazzo ho usato l'ultimo usato l'ultimo si no però mi sono sopporto e vabbè oh stiamo caperati no? si grosse forse 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 cazzo non ho usciuto vabbè dai si però corvo tu che cazzo fai la buona l'ho fatto sbrogare abbastanza la ulti non so stavuti da all'inizio mi carico tu ma no cazzo 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 che culo come siamo fatte come abbiamo fatto a sopravvivere questo ultimo attacco è stato abbastanza duro così quasi mi fanno pena così quasi ho detto qualcuno che è bravissimo qua te l'apro io una testa una testa parto io 5 skip tuff sicuramente la stella rogaget guarda io uso il primo io invece uso però puoi usare il seminino così li blocchi appena arrivano io te lo consiglio usalo usalo non ce l'ho non ce l'ho se lo vuoi sapere era meglio buona buona questa mappa mi gusta mi gusta grazie grazie forse non la odieremo mai forse non la odieremo sai ho detto forse buonissimo stai riuscendo a fare un battuto di danni adesso con questo di livello 1 è buona bravo usa quel te quel te quel cosa sotto la volte contro di me è incredibile che nabbo non ce l'ho non ce l'ho dato il bar mio buono non ce l'ho da stare là ad attaccare ho dato c'è la mia roba che attacca buono l'avete scritto già dall'inizio se l'hanno già il 30% se adesso lo fanno loro basta che resistiamo adesso lo fanno loro si pareggio 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 buono è buono 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 io ho fatto la loro base col giampino già un po vittoria incredibile incredibilmente sono fatta che potente questo qua un cromatico sorrida perché devo sorridere la vita sì ciao vaffanculo 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 vai vai portate quella bravissimi no all'ultimissimo bravo 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 dobbiamo dare molte cose dobbiamo darle tantissime dobbiamo darcela tantissimo perché se adesso riusciamo a fare un attacco buono poi io ci posso andare con la ulti addosso buono le ho portato la cosa bro abbiamo 10? siiii così si chiama nice bro 11 addirittura anche 12 in realtà anche 13 se questo me lo dai in fretta vabbè 14 tra di quattro di livello 14 quanto potrebbe essere fuorci? non lo so tipo troppo eh c'è uno disinferrato scassato lo scassamolo 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 vabbè no io non lo sto odiando da altissimo adesso eh? perchè stavamo vincendo ecco perchè non lo sto odiando da altissimo cazzo dopo che c'è? dopo ehm c'è drapina l'aprovi vabbè punti per leone mi gustano i punti per leone cazzo mi gustano mi gustano che dobbiamo fare? se mi chiamano io mi incazzo giro dai cazzo fai? ero bugato si no vieni 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 nella base vieni nella base no si nessun robot buono oh io metto la torre hanno vinto loro a meno che non facciamo una resistenza di dio non credo guarda hanno già sette power ma che cos'è che costruiscono ma loro che cos'è che si costruiscono? forse se resistiamo bene forse no no magari se resistiamo bene si però se loro attaccano sempre a me che cazzo è buono e tu sei morto grazie al cielo vedo io ci vado addosso di ulti non mi interessa è quel che non è inutile potrei mettere il mortaio c'è la torrezza madonna quanto cazzo è veloce quel coso ho distrutto un po' la loro base puoi vedere il 60-70% li ho tolto e no fanculo guarda li ho tolto il 30% da solo incredibile e qui si è di mettere uno da lontano non so tipo guarda io consiglio ok Jesse perché Brock con l'ulti distrugge la cosa e non so se lo sa metti Brock ok lui distrugge con forse che l'ulti lo distrugge installare metto la prima perché così mi sa che loro vogliono andare a prendere il coso in un fiambo e poi con la skin che ho faccio i vortici snowy day snowy day non ho fatto molto lavoro cazzo ragazzi niente niente fanno loro niente fanno loro niente si ciao il livello 8 ci distrugge noi siamo abbastanza resistiti a livello 11 7% cazzo ragazzi quanto poco non ci ho fatto quanto poco non ci ho fatto quanto poco d'anno ci ho fatto eh loro non si perdono eh sì perché loro rimangono la stronzi belli tamperati che cazzo di minchioni che siete siete dei minchioni 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 siete dei minchioni minchioni no ma dai ma che bastardi ma quanto tempo quanto starcazzo di tempo ci vuole per portare uno di questi adesso adesso facciamo un secondo secondo io non ho fatto mi sa che non la tocca neanche la base non la tocca adesso è il nostro obiettivo abbiamo un minuto per scassare di base più o meno più o meno di un minchioni più o meno di un minchioni bro ma che cazzo fai distrugge la loro base no si bro loro ving basta loro hanno fatto anche l'altro si certo ma come cazzo fanno si però loro avevano un pa avevano un cacciavite un cazzo di cacciavite avevano uno strecazzo di cacciavite si ma tu te ne vai si ma avevano uno strecazzo di cacciavite è impossibile che riescono a farlo a farlo c'è un fra se tutti non davi guarda c'era meglio mi spero allora io mi arrende quindi tante mani e tutti andavi era fatta praticamente noi lo distruggiava era venuto per 5 secondi 5 è impossibile che in 5 secondi portano 20 cacciavite però se non c'è vabbè mi so faccio se sei andato là va chiudi la diretta no 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 faccio il tornadolto non lo so mi apro sta cassa tanto che hai delusione la provo io tanto che ho una delusione tanto mi sono fatto 1700 mi sono fatto 1700 monete va bene io ho messo una cosa ci fa scritto però è quel po' che lo avevo andato mi porteremo uno al nuovo però non c'è nessuno io c'ho un problema io c'ho un problema non c'ho un nuovo problema vabbè 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 perché se mi porteremo un po' che c'ho unход Grazie a tutti.